Fogli di via per sei persone che cercavano di truffare i giovani visitatori della fiera è la decisione del questore di Vicenza, Paolo Sartori, in seguito a quanto avvenuto nei padiglioni dell'esposizione dove era in corso Vicenza Comics & Games, un evento che ha registrato la presenza di numerosissimi visitatori giovani e meno giovani appassionati di cartoni e videogiochi. Le pattuglie delle volanti, durante un controllo, hanno identificato sei persone sospettate di tentare delle truffe con la vendita di stampe contraffatte a giovani appassionati di fumetti dopo che erano stati convinti che le stampe in questione fossero originali. E così questi sei soggetti, tutti arrivati proprio con quello scopo da Torino e già noti alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, dopo essere stati condotti negli uffici della Questura per l'identificazione, in considerazione dell'accaduto e dei loro trascorsi, il Questore Paolo Sartori ha deciso di emettere dei fogli di via obbligatori nei loro confronti con divieto di ritorno a Vicenza per tre anni per evitare che tentino nuovamente di commettere truffe in questo territorio.